Santi Francesco Totti di testa prova a prolungare Aquilani vince il rimpallo si appoggia per Totti eccolo qui il 3 a 0 del numero 10 una rasoiata pazzesca comincia ancora ad Arnardi Totti con l'esterno per Aquilani aggancia e apre a muore la conclusione tentata qui da Fabrizio Romondini Tiro cross, arriva la deviazione sotto porta e arriva il vantaggio del San Paolo a segno Daniele Stufa col tacco con fin troppa calma l'audace Savoia il pallone che viene perso e allora la conclusione dalla lunga distanza a cercare la velocità di Manganelli Manganelli molto bene il pallonetto che bello specialmente vedete al vivo questi gol che vedete quella di Manganelli la sinistra la lettoria fuori per Federici è uno schema la stop il tiro e l'euro goal di Nico Federici che raddoppia per il George Best 2-0